Se dovessimo immaginare oggi di poter scoprire un nuovo continente sulla Terra sarebbe forse un'idea che tutti giudicano un po' strana, eppure in un certo senso un nuovo continente è stato scoperto pochi anni fa. Nel 2009 un navigatore si è accorto che all'interno dell'oceano atlantico esistevano una sorta di aggregati di spazzatura, garbage patch, che in sostanza hanno una dimensione molto vasta, più volte ad esempio quella degli stati come il Texas, e che si raggruppano in cinque grandi vortici e quindi hanno una loro ben precisa fisionomia, non certamente inferiore a quella di un vero e proprio continente. Parliamo di un continente in maniera naturalmente metaforica, perché si tratta di detriti talmente piccoli che non sono visibili dall'alto da un aereo o da una ripresa satellitare, ma se ci andiamo sopra con una nave, con una barca, si vede l'enorme quantità di detriti che ci sono, come mai sono lì e come mai sono così piccoli. Infatti uno dei dati più aggravanti di questa situazione è il fatto che non abbiamo delle quantità di contenitori di plastica o bottiglie di plastica che sarebbero quindi visibili ad occhio nudo, ma ci sono delle piccolissime quantità di plastica sminuzzata che confluiscono quindi nella fauna anche marina. Spieghiamo il motivo. Visto che sono proprio delle quantità piccolissime, vengono anche ingerite poi dai pesci e quindi entrano indirettamente nella catena alimentare. Questo significa che è ancora molto allarmante il fatto che potrebbero finire questi pesci pescati in queste parti di oceano proprio anche sulla nostra tavola e quindi è urgente che si faccia qualcosa anche se fino ad oggi diciamo che non ci sono state delle risposte all'altezza dell'entità del problema. Perché questo problema non viene di fatto affrontato? Perché si tratta di una enorme quantità di spazzatura ma che è lontano dalle coste, almeno le parti più consistenti e quindi nessuno Stato si preoccupa come dire di fare un'opera di pulizia. Ecco che allora è venuta in aiuto l'arte. Una artista italiana ha pensato di istituire un vero e proprio Stato, perché stiamo davanti a un continente, per analogia si può pensare che su questo continente si realizzi un vero e proprio Stato e il 13 aprile del 2013 è stato ufficialmente riconosciuto questo Stato dall'UNESCO. Sappiamo che l'UNESCO è l'organo dell'ONU che si occupa della cultura, certamente non è uno Stato in senso proprio, non ha i suoi rappresentanti all'ONU, non ha un suo insieme di popolazione evidentemente, però ha un valore di carattere culturale e politico avere una propria identificazione dall'UNESCO e quindi una provocazione, possiamo pure chiamarla così, verso l'opinione pubblica ma anche la comunità scientifica e gli Stati affinché si possa fare qualcosa da questo punto di vista. Lo Stato non è soltanto riconosciuto dall'UNESCO, ma ha partecipato anche alla Biennale di Venezia e è presente anche al Museo d'Arte del XXI secolo, il famoso Maxi di Roma e la curatrice si chiama Maria Cristina Finucci, è un'artista italiana e ha spiegato come mai si è interessata a questa tematica. Anni fa venne a sapere della tragedia delle isole di plastica, presa un po' sottogamba dalla comunità scientifica, spiega Finucci, visto che non ci sono foto, era necessaria un'immagine che sintetizzasse il problema e quindi vediamo l'immagine. Vediamo questa immagine, chiaramente un'immagine artefatta, è una sorta di cartolina di auguri che arriva dalla spiaggia, un po' plasticosa naturalmente, di questo immaginario stato e questa è un'immagine metaforica, ma in ultima analisi neanche poi tanto, di una vicenda che non riguarda soltanto gli artisti che hanno il desiderio di qualcosa di eccentrico, è un modo che ci ricorda come le conseguenze delle nostre azioni siano sempre presenti. Noi possiamo illuderci, possiamo immaginare di non prenderle in considerazione, di allontanarle da noi, ma prima o poi queste conseguenze delle azioni tornano verso di noi, tornano e certamente ci presentano un conto, un conto che è in questo caso di ambiente violato, ma anche di vita marina messa in crisi e anche alla fine, ed ecco la lunga catena delle conseguenze arriva fino a noi, anche di nostra qualità della vita, di esseri umani, perché come diceva prima, la fotosintesi lenta ma inevitabile di queste componenti plastiche porta a suddividere le bottiglie, le posate, i bicchieri, gli oggetti di plastica in elementi talmente microscopici che sono sostanzialmente assimilabili al plankton, cioè al cibo da cui inizia la grande catena alimentare del mare e quindi, come dire, dal pesce piccolo a quello più grande e poi arriva alla fine sulle nostre tavole e arriva dentro i nostri stessi organismi. È un elemento vero, ma ripeto è anche una metafora perché ci ricorda la importanza di tutto quello che è cura dell'ambiente. Molto spesso il nostro sistema economico, ma anche il nostro modo di pensare tende a lo chiamano così, a ottimizzare le risorse, cioè a far sì che con il minor costo si abbia il maggior introito. In realtà molto spesso il minor costo non è tale, ma è considerato tale solo perché non si considerano costi di devastazione ambientale, di ripolitura, di danni anche alla salute che non si conteggiano e quindi vengono scaricati. Ecco perché la consapevolezza di questi elementi diventa fondamentale anche per fare scelte politiche che non sono legate soltanto a un ambientalismo di maniera, ma effettivamente tengono conto dei risultati, delle conseguenze per il buon andamento del clima di tutti. Questo ci dice anche che occorrerà trovare anche dei modi per poter riuscire a risolvere questo problema. Sì, infatti ci sono delle notizie incoraggianti che vengono da un giovanissimo ragazzo di appena 18 anni, olandese, della cittadina di Deft. Si chiama Bojan Slat e la sua idea rivoluzionaria è inaspettata, è stata esposta proprio nella sua tesina di diploma liceale dal titolo Ripulire il mare di plastica in soli 5 anni. Quindi Bojan ha cercato di dare una possibilità di recuperare la plastica che tutt'oggi è negli oceani e anche nel mar Mediterraneo in qualche parte. La sua soluzione è stata di gran lunga alternativa a Moore, il capitano che ha scoperto questo nuovo continente, come lo abbiamo chiamato. Moore proponeva sostanzialmente di pescare queste 7 milioni di tonnellate circa di plastica, mentre il nostro Bojan da buon olandese propone invece delle dighe che consentiranno di ripulire il mare, l'oceano in circa 5 anni, mentre invece la proposta di Moore impiegava quasi 70 mila anni a ripulire l'intero oceano. Inoltre è importante vedere che per finanziare questo progetto, a cui adesso stanno lavorando circa 50 ingegneri, il ragazzo olandese ha anche messo in evidenza che non solo ci sarà un tornaconto ambientale ed ecologico, ma sicuramente le società che si occuperanno della pulizia di questi rifiuti potranno raggiungere anche dei capitali, quindi dal reciclo di questa plastica si potranno ricavare circa 500 milioni di dollari. E anche questa è una storia bella perché ci dà un'altra metafora più incoraggiante, laddove alcuni nostri modi di pensare un po' sclerotizzati non riescono a trovare soluzioni, esistono capacità creative alternative di giovani che appena 18 anni hanno l'intuizione di trovare una soluzione che naturalmente poi deve essere implementata dal lavoro, come si diceva di molti altri, ma che rappresenta una diversa e più intelligente soluzione, dighe naturalmente non di carattere tradizionale, ma costruite con nanomateriali che permettano questa separazione tra ciò che è biologico e ciò che è plastica. Però diciamo per noi questa storia è anche una immagine che permette di fare riferimento a un altro modo di pensare, un tema su cui tante volte a mappe torniamo e ci è molto caro, perché non possiamo pensare che gli stessi metodi di pensiero che ci hanno portato ai guai siano in grado di tirarci fuori dai guai, occorrono creatività e modalità diverse, anche perché siamo un po' obbligati a fare il tifo per queste persone, altrimenti se non dovesse essere vincente la plastica ci sommergerebbe e sappiamo che i meccanismi naturali impiegano mille anni per la fotosintesi, una plastica che però non scomparirebbe certamente, ma semplicemente passerebbe dentro i nostri stessi organismi, una prospettiva che nessuno di noi ci augura. Grazie della vostra attenzione. Ogni puntata di Mappe è scaricabile sul sito tsdtv.it slash mappe all'interno del quale troverete anche il nostro blog. Grazie a tutti.